ciao ragazze oggi sono emozionatissima perché ho appena ricevuto questo pacco da parte di Alessandra Giosini qui dentro c'era chiuso il suo sogno lei voleva creare delle carte ha creato anche dei timbri coordinati e finalmente ci è riuscita ho seguito tutto il suo percorso appunto di creazione e sono felicissima di far parte del suo creative team e adesso possiamo aprire insieme il tacco freddo 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 qui c'è del tulle mi ha inviato un kit questi sono i timbri sono meravigliosi molto facili da usare anche per me che non li uso spesso invece sono delle semplici etichettine che si possono stampare e ritagliare questo è un foglio di vellum che mi ha stampato apposta per la sua collezione un po' di decori li metto qua per non perderli e poi finalmente le sue carte viste così dal vivo sono meravigliose qui ci sono le parti che si possono ritagliare bellissime anche la tonalità di verde è molto bella forse dal video non rende neanche bene non rende neanche bene non rende neanche bene è tutto non vedo l'ora di creare ancora complimenti ale e sono felicissima di far parte del tuo team ancora grazie ale